la pasqua di ameria radio a cura di maria teresa ferrante massimiliano sansa e paolo pellegrini buongiorno e benvenuti alla domenica di ameria radio festeggiamo la pasqua ascoltando di joan sebastian bach la messa in si minore bvv 232 per soli coro e orchestra soprani anna morrison e esther brazil mezzi soprani katie bray e kate simons joy tenori peter davoren e nick pritchard baritono alex ashworth basso david shipley con il monte verdi choir e la english baroque solis diretti da john elliot gardiner solis diretti da john elliot solis diretti da john elliot solis diretti da john elliot Grazie a tutti. 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 a tutti.